Questo! No, ti ho detto che deve essere grande abbastanza per entrare in ritardo. No, ma questo è un fatto fare, non esiste il contenitore. Ho capito chiaro che abbiamo un altro contenitore. Tu metti pure l'olà, si ghiaccia tutto, quindi... Andiamo da Giarritti, prendiamo... Dai, vi do i soldi. No, ci diamo, le va date in giro. Poi si mettono pure a distribuire il gelato a Montecitorio. Grazie.